tutto si può se c'è il tempo e con la partita super super di marco rà numero atp 174 baste per 2 7 a 0 in soli 58 minuti rosol avversario nazionalità repubblica cieca numero atp 176 con i punteggi di 6 3 6 2 rispettivamente 30 minuti il primo 7 28 secondo e quotazione anche molto buona dalla vittoria di marco rà tra il 2 e 35 2 40 quindi marco rà passa al secondo turno del torneo atp di pun india 2020 concludiamo battendo rosol 2 0 con il parziale di 6 3 6 2 a più tardi grazie